ho che condivido una cosa con voi mentre faccio ancora formelle ho deciso che oggi smetto solo quando termino il colore blu che è quello che... ed infatti sono quasi in fondo ne ho fatte tante, tante insomma, poi mi è venuto a voglia di lavorare il lino il lino di Lollocrea perché è proprio un bel lino vedo sempre tante fettucce, tanti spaghi, tanti cordoncini invece questo lino merita proprio ma mi piacerebbe avere... sì, devo andare a raccattare un po' di perlone colorate che ho sparse per casa ho anche una collana in murrine antiche che venivano usate come moneta di scambio in Africa sapete le nostre belle murrine, quelle un po' opache usate infatti, moneta e poi dei perloni e poi ho ancora delle palle di cernet delle sfere di cernet fatte da Camilla parecchio tempo fa ma decenni ecco sì, ci farei proprio delle belle collane degli intrecci ma ci sono un sacco di belle borse, borsine delle stacche, delle tasche delle shopper piatte perché a me piace la forma un po' piatta delle borse fatte a mano e sono molto belle quelle che sta facendo Luca Sports con le formelle ma io invece ho voglia di borse monocromatiche e questo lino mi ispira tanto poi voglio vedere quanto mi rende ma renderà fate conto, ecco considerate quanto ci costa il nastro da pacchi lo spago a volte andiamo a comprare quei nastri da pacchi terrificanti plasticosi ecco non voglio svegliere questo lino però ecco un bel pacchettino hanno dato con o una bella lana o proprio questo lino bello grosso è bello grossetto questo lino ecco considerate il mio cotone qua come sto lavorando è bello corposetto è più bello della carta pirca secondo me e quindi sì in serata probabilmente comincerò una shopper che vedrete domani e poi ne ho messo da parte tantissime da questi bei canali coreani giapponesi e qualcosa non lo so se ho messo da parte qualche bella borsa anche da youtuber italiani non lo so ma i coreani mi piace proprio lo stile mi piace quel minimalismo mi piace quell'eleganza mi piace mi piacciono mi ispirano e quindi ecco poi passerò a lino di Lollocrea che si chiama Linette te lo so Linette sa un po' di frizione di lozione per capelli ti do un po' di Linette perché poi c'è la Linetti oh la Linetti Linetti è qualcos'altro pro-raso e Linetti è una cosa così mi sa questi prodotti da barbiere da uomo quindi pro-raso Linetti c'era la pomata che si dava a mio nonno nei capelli ma che carino l'ho sempre tutto balolindo e pinto sempre bello ordinato era sempre bello ordinato anche quando tornava dal lavoro dalla dalla magona che magone lavorare magona quella è una delle mie lucandine vedete c'è chissà dove ce l'ho ce l'ho ancora nella sua sacchetta quello lì è uno dei miei che vrono uno dei miei sencia da viaggio quando voglio avere qualcosa con me che non mi deve comportare stressamenti troppi pesi calcoli o meno so fare a memoria veramente perché non c'è non c'è molto da capire solo come cambiare indirizzo ecco quello sì quando raggiunta l'altezza massima vogliamo fare l'altro lato del triangolo ecco bisogna stare un po' attenti farlo bene considerare bene il cambio del colore perché fa motivo soprattutto se non seguiamo pari pari il progetto dal punto di vista cromatico quindi lo scambio dei due colori scelti dalla designer quindi il sencia è una forma veramente che permette di giocare con quello che abbiamo anche consistenze diverse ma bisogna averlo fatto almeno una volta avere un po' di dimestichezza col cambio dei materiali non solo dei colori e ponderare bene quanto e dove ed è bello è bello è bello questo non era il set un set voluto era il mio tavolino al bar Vittoria ero al bar Vittoria eh sì ero al bar Vittoria in piazza Vittoria a Viterbo che è uno dei miei punti di riferimento con le amiche mi piace perché è buffa la piazzetta ci passano le auto quindi non è un posto tranquillissimo però in realtà il bar poi all'esterno non è che occupi una terrazza ma è un po' come se lo fosse quindi c'è un bel triangolo grande di San Pietrini ci sono delle belle vascone che delimitano quello spazio con degli alberelli spesso fioriti a lungo ci sono delle piante poi spostano spesso i tavolinetti colorati in metallo colorato con le seggioline colorate poi ci sono delle poltrone comode ed è delizioso quando ha una voglia di vedere un po' di passaggio poi c'è un bel palazzetto storico di fronte ci sono delle belle terrazzette da ammirare e il bar è bello fornito era anche organizzato come ristorante per il pranzo la sera non lo so so che hanno organizzato delle belle serate di musica e non solo ha una saletta interna quindi c'è lo spazio fronte al bancone che è un bancone doppio dove ci sono tutte le cose buone fresche fatte da loro le torte fatte lì da loro c'è lo spazio cucina e poi c'è una sala interna dove si devono scendere due o tre scalini gradini è bella ampia quindi ci siamo date diverse volte appuntamento con le amiche per fare la maglia o chiacchierare berci un caffè e insomma scambiarci qualche considerazione sui materiali sulle riviste però c'è sempre andata di lusso devo dire che abbiamo solo un paio di volte mi sono entrata e notta all'interno per questioni climatiche altrimenti ce la siamo sempre goduta all'esterno anche in inverno e il bar vittoria devo dire che è uno dei miei ristori preferiti a Viterbo ha cose buone mi fanno un cappuccino di soia meraviglioso bollente come piace a me schiumoso come piace a me altrimenti prenderei un latte macchiato ecco o un caffè lungo macchiato invece mi piace il cappuccino schiumoso denso bollente bollente il cappuccino è tipido lo decido io quando deve diventare tale io lo voglio bollente il cappuccino e quindi questo era il mio tavolino e poi mi hanno fatto la locandina mi è piaciuta e ho detto sì ma erano tutte le cose così come ce l'avevo sul tavolo e la rocca perché ero pronta a fare una chiacchiera sui lini ecco quella è una rocca di lino mi ero portata a due o tre cose e lì ho delle ciambelle di kid silk trovate sul banco delle ceste delle meraviglie del negozio di filati in piazza delle erbe sempre a Viterbo c'è quel gomitoletto turchese che proviene dallo stesso luogo una matassa sottilissima di viscosa non mi ricordo se questa era viscosa lino e cotone o lino setta insomma perché ne avevo prese di diverse qualità e e ho mischiato ho mischiato e ho cominciato quello chevron bello color color cala azzurra favignano quelle belle macchie turchesi torno torno all'isola di favignano poi cala azzurra è proprio così e uno non uscirebbe mai dall'acqua perché ne ha proprio la percezione di trovarsi in quel turchese bello bello bellissimo e e quindi ecco cosa vi partecipo facciamo finta di essere tutti insieme appassionatamente durante un caffè dove chiacchiero 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 faccio ridere ma guardate un po' che cosa vi ho portato questa l'ho raccolto ieri e ha ancora due boccioli che dove devono aprirsi vedete erano tutti abbassati tutti accasciati poveri fiori perché l'acqua quando ci dà ci dà stamattina è venuto proprio a sgrulloni ora si è un po' rischiarito e rischiarato e quindi fra un pochettino prendo brinchio alla menù e la porto a fare due passe perché ci siamo inzuppate per essere andate a prendere la legna perché poverina lei è bassa è schizzetta anche se non piove si inzuppa quindi buon pomeriggio e io proseguo con le mie vedete le mie formelle sono tante sono tante sono belle sono di tre tipi e vi saluto e ci sentiamo poi in serata per qualche pagina di lettura cosa fate voi cosa state facendo ciao